Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne L'Abruzzo non è più la penultima regione italiana nella classifica degli enti con spesa virtuosa per l'agricoltura e quanto emerge dai risultati trasmessi ieri dall'organismo pagatore del Ministero dell'Agricoltura, la GEA L'assessore regionale alle politiche agricole, Dino Pepe, commenta con soddisfazione i dati Oggi, dice, la regione grazie a una serie di strategie messe in campo, alla professionalità e all'impegno costante della struttura ha già liquidato il 93% e oltre delle risorse europee contenute nel Fondo Europeo Agricolo e per lo sviluppo rurale segnando uno dei maggiori avanzamenti di spesa in Italia degli ultimi 18 mesi Un sistema integrato di bike sharing, cioè di condivisione sostanzialmente della bici regionale il nuovo piano paesaggistico regionale, i contratti di fiume ed il cicloturismo sono stati al centro di tre distinti protocolli di intesa che il presidente della regione D'Alfonso ha firmato a Pescara con la Società Tua per il bike sharing, i tre atenei abruzzesi per il piano paesaggistico i contratti di fiume ed il cicloturismo e le quattro province per quanto riguarda il piano paesaggistico Rispetto al sistema integrato di bike sharing a livello regionale, la cui realizzazione è stata affidata attraverso un'apposita delibera di giunta alla Società Tua, la progettazione interesserà 77 comuni per una popolazione servita pari a 931.000 unità su un totale di 1.300.000 abitanti Saranno 175 invece le stazioni previste, i fondi disponibili sono pari a 4.850.000 euro La Guardia di Finanza di Chieti ha posto sotto sequestro un auto articolato proveniente dalla Repubblica Ceca che trasportava oltre 27.000 litri di gasolio dichiarato come additivo contenuto in un isocontainer Il valore del prodotto è di circa 37.000 euro, l'imposta evasa di circa 17.000 Oltre al sequestro del mezzo e del carico, le fiamme gialle hanno denunciato i due conducenti per il reato di sottrazione del prodotto petrolifero al pagamento dell'accisa Studenti e professori chef dell'Istituto Alberghiero di Pescara prepareranno il pranzo di Natale per 80 famiglie bisognose che sarà offerto dalla comunità di Sant'Egidio presso la parrocchia di Santa Caterina da Siena, Pescara L'annuncio è arrivato oggi durante l'Assemblea d'Istituto nella quale sono stati anche annunciati la riapertura dei laboratori di Via Tirino il 7 gennaio e l'avvio dei lavori per la ristrutturazione dei locali dell'ex palestra di Via Italica Ne parleremo a servizio interviste In queste settimane la provincia sta procedendo sulla base di numerosi sopralluoghi effettuati nel corso dell'estate scorsa e concordati con il proprietario dell'immobile e con il dirigente scolastico interessati all'esecuzione ex novo dell'impianto elettrico e alla messa in sicurezza degli infissi Lo precisa la provincia di Pescara dopo l'articolo pubblicato sulla pagina di Monte Silvano del quotidiano nel centro in cui si evidenzia lo stato di degrado in cui versa l'edificio scolastico Alessandrini L'istituzione bibliotecaria provinciale sarà dotata di wifi e di 5 nuovi computer a disposizione del pubblico La provincia di Pescara e la biblioteca hanno realizzato infatti un miglioramento atteso da tempo Sui propri pc portatili forniti di scheda di rete i frequentatori della biblioteca potranno accedere al web senza restrizioni orarie flat dunque 24 ore su 24 e quindi per tutte le ore di apertura al pubblico della struttura dalle 8.30 alle 19.30 da lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 13.30 il sabato con attivazione di card elettronica con password personale da richiedere alla distribuzione libraria e poi registrandosi online alla rete wifi della biblioteca A Pescara senso unico alternato su strada del palazzo per consentire i lavori di manutenzione straordinaria previsti sulla strada e che richiedono il restringimento della carreggiata dal 21 dicembre al 4 febbraio La politica come richiesto dal presidente Silvio Berlusconi anche l'Abruzzo adegua i suoi organi di vertice alle indicazioni che puntano al rilancio e alla ripartenza dell'attività politica di Forza Italia Il presidente del comitato regionale abruzzese, Nazario Pagano, ne ha dato notizia nella prima riunione del nuovo comitato lunedì scorso a Pescara Sono stati nominati i responsabili regionali di settore Luca Saraceni per l'organizzazione Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo per gli enti locali Emilio Nasuti per i dipartimenti Antonio Morgante per la comunicazione e l'immagine Ed Eugenio Seccia per la formazione Emilio Jampieri rivestirà invece il ruolo di tesoriere responsabile del fundraising Si terrà stasera alle 20.30 nella Chiesa dello Spirito Santo di Pescara il concerto organizzato dalla Lilt, la Lega Italiana Lotta e Tumori per sensibilizzare proprio sulle iniziative di contrasto ai tumori Nel pomeriggio alle 18 invece è prevista la celebrazione eucaristica presieduta sempre nella Chiesa pescarese dello Spirito Santo da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Pegne Siamo alle previsioni del tempo Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con temperature da 8 a 9 gradi sulla costa dove si prevede anche foschia in tarda serata e di circa 7 gradi nelle zone interne e venti deboli Domani si prevedono cielo poco nuvoloso fino a metà mattino molto nuvoloso in tarda mattinata nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio sereno nel tardo pomeriggio e da poco nuvoloso a nuvoloso in serata con temperature da 8 a 12 gradi sulla costa e da 7 a 11 gradi nelle zone interne e venti deboli Il mare è previsto quasi calmo stasera e poco mosso domani Con queste previsioni noi concludiamo questa edizione del nostro radiogiornale Da Massimiliano Spiriticchio al microfono Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa metropolitana di Pescara-Pegne Grazie e risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti Grazie a tutti